buonasera sindaco ti vedo molto stanco oggi oggi giornata molto impegnativa quindi abbiamo avuto la concerta giunta per cui sono qui a fare il video abbiamo avuto la prima ufficiale conferenza dei sindaci comunità di valle e a seguito un interessante incontro uno spero dei primi incontri con alcuni membri della giunta del parco con i funzionari del parco con funzionari provinciali appunto per la gestione della nostra area parco come mai questo incontro cosa c'è in ballo beh in ballo naturalmente abbiamo un nuovo tipo di gestione dell'area non solo di tover ma di tutta l'area parco in più la famosa questione dell'acquisto di casa grandi dove il ricavato che ne avrà il parco sarà destinato in area tover quindi in area parco nella nostra nel nostro comune nel comune di ville d'anaudio e quindi urge naturalmente un coordinamento per vedere quali sono i progetti principali per vedere qual è il l'obiettivo che si vuole dare e quindi utilizzare nei migliori dei modi questi questi soldi in giunta oggi si è naturalmente discusso come sempre riguardo a quali sono i servizi che possiamo dare ai nostri cittadini alle nostre associazioni ma non solo insomma quindi cercare di coordinare nelle casistiche dei vari comuni quali sono la contribuzione che diamo le nostre associazioni quali sono i miglioramenti alle quali possiamo far fronte nell'organizzazione degli eventi quindi cercare di trovare di fare un bade mecum di quali sono le richieste che devono essere effettuate per qualsiasi tipo di manifestazione oppure per l'utilizzo di materiale che ha il nostro comune a disposizione per le associazioni ma sempre non solo anche per i privati quindi una scaletta di quello che effettivamente i nostri uffici devono fare e effettivamente cosa bisogna richiedere perché altrimenti all'ultimo minuto come sempre rimaniamo sempre senza qualche autorizzazione. E questo perché di prassi ogni comune ogni ex comune aveva il suo modus operandi che era diverso l'uno dall'altro. Esatto e questo naturalmente per una spinta di unificazione e quindi cercare di unificare questi regolamenti anche queste strutture che da ex comune a ex comune erano diverse quindi cerchiamo di dare informazione e una linea unica. Naturalmente abbiamo parlato anche di vigili volontari del fuoco, abbiamo parlato di adesione alla strada della Mela e naturalmente anche dell'evento di solidarietà che è stato creato così repentinamente all'interno del nostro comune che si è chiuso, quindi è dato a termine con la consegna dei bancali che abbiamo recuperato grazie alle donazioni dei nostri cittadini che si sono presentati numerosi e hanno risposto molto bene al tipo di proposta, al tipo di progetto. Ma c'è anche un'altra iniziativa promossa dal gruppo Giovani? Naturalmente il gruppo Giovani Quattrovilla ha promosso un'altra iniziativa quindi una cena con serata musicale al CTL qui a Cles nella serata di venerdì, quindi il ricavato sarà donato ad una famiglia originaria di Rallo che si trova nei posti dove è accaduto il terremoto, quindi un'altra iniziativa con il patricinio e che ringrazio molto i ragazzi che la stanno in questi giorni organizzando anche lì molto velocemente. Come abbiamo detto l'altra parte riguardante la nostra giunta di oggi ha affrontato tematiche con le quali non voglio naturalmente tediarvi, sono molto più tecniche magari di ragioneria o magari di lavori pubblici e quindi sarà per la prossima volta quando le concluderemo. Grazie a tutti.